Si è svolta nella mattinata di oggi presso la prefettura di Caltanissetta una seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata un'analisi dettagliata dei recendi episodi di furto presso taluni esercizi commerciali del capoluogo, che hanno testato preoccupazione nella comunità locale. Alla riunione, preseduta dal prefetto, hanno partecipato oltre ai vertici delle forze dell'Ordine anche il sindaco di Caltanissetta e il comandante della Polizia Municipale. Nella circostanza, il prefetto, oltre a disporre una intensificazione dei servizi di controllo che saranno dispiegati in maniera strategica sul territorio, ha anticipato l'avvio di alcune importanti iniziative in tema di sicurezza, integrata e partecipata. Più in particolare, grazie alla fattiva collaborazione del Comune, verrà breve rafforzato l'apparato di videosorveglianza, con specifico riferimento al centro storico e alle altre aree della città, ritenute più sensibili sul piano sulla pubblica sicurezza. Inoltre, è stata positivamente accolta la proposta del prefetto di valutare l'avvio di interlocuzioni per la stipula con il Comune di un patto di vicinato, quale importante strumento non solo di cooperazione interistituzionale, ma anche di coinvolgimento attivo dei cittadini nel sistema sicurezza. Il sindaco, che ha espresso apprezzamento per l'attività svolta dalla Prefettura e dalle forze dell'Ordine, ha assicurato la massima collaborazione anche attraverso l'impiego del personale della Polizia Municipale.